Trieste, la città del mare, la città del porto, la città del sole. Di notte come di giorno, Trieste si è fermato per colpa di un virus. Molte informazioni corrette, ma anche tante inesattezze circondano il coronavirus. Alcuni ricercatori cinesi avrebbero ad esempio isolato l'agente patogeno in un campione di feci. La cosa dimostrerebbe dunque che il bacillo può vivere al di fuori di un corpo. Si moltiplicano anche le accuse verso Pechino. Ma loro, i medici infimieri, i cassieri del mondo, non si sono mai fermati per salvare le vite. Oggi, le nostre strade a Trieste sono vuote, vuote di gente, ma la fontana continua a darci acqua. La nostra piazza di unità, il simbolo di un popolo unito per combattere insieme il Covid-19. La piazza dove tutti uniti renderemo un'ommaggio ai cari andati per colpa di questo virus. Ci fermeremo un attimo per guardare il cielo, per riconquistare il nostro sorriso perso e riprendere la nostra energia per ripopolare le strade volte. Solo la natura sa potrà profittare, niente inquinamento. Gli uccelli sono più che liberi, liberi di volare e passeggiare. Occupare i banchi pubblici sarà la nostra prossima sfida. Gli uccelli sono più che liberi. Gli uccelli sono più che liberi. Gli uccelli sono più che liberi. Gli uccelli sono più che liberi.